Questa è la storia di un virus. Non un virus che arriva dagli animali, ma uno di quelli che nasce nello stesso organismo che lo ospita. Questa lì è la quiete prima della valanga di merda che ci sommergerà. Ragazzi, ho moltissima fiducia in voi. Non ciò. Hai portato i soldi? Non lo dobbiamo pagare a quello. Fai sicura? A me mi sembra che si sta facendo una cazzata. Quello è uno che te la fa sentire la violenza. Che lo dobbiamo fottere a questo bastardo. Ma che cazzo hai fatto? Quanti soldi ci sono? Cazzo, cazzo. Prendilo bene? Certo che fai impressione. Con gli occhi aperti così. Lo dobbiamo dire. Ma chi? Ma è la polizia? Non è che il portiere ha capito qualcosa? Questa è la storia di un virus. Io ho provato a dirtelo. Non l'hai fatto per pigliaccheria? Oddio, odio, odio. O è stata la perversione? La decisione l'abbiamo presa tutti. Un virus molto stupido. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!